Benvenuti al 7 giorni magazine di Antenna Sud, rivediamo insieme i servizi più importanti della settimana appena trascorsa e cominciamo da domenica. Sono tornate in piazza le donne del movimento Se non ora quando, grande manifestazione a Roma e in altre città italiane, ha raccolto in tutto più di 100.000 donne, un messaggio per tutti. Senza di noi dalla crisi non si esce. Sentiamo come è andata a Roma da Gianluca Boezio. È sceso nuovamente in piazza a Roma Se non ora quando, il movimento Rosa che vuole cambiare l'Italia con le sue proposte sul lavoro, maternità, servizi, rappresentanza e comunicazione. Noi andiamo verso un paese che non tratti più le donne da ospiti, che costruisca un welfare che possa sostenere le donne nell'occupazione che in Italia è ben lontana da quello che ci chiede l'Europa, che consenta di avere servizi del welfare che non costringano 3 milioni di donne a non lavorare. Andiamo verso un paese civile forse. Slogan della manifestazione Se non le donne chi? Più che un interrogativo, un imperativo per ottenere nella società quei ruoli centrali, troppo spesso appannaggio dei soli uomini. Per uscire dalla crisi politica, economica e morale, affermano i tanti volti noti che sostengono il movimento, non basta il nuovo governo. Serve una presenza forte e autonoma delle donne sia a livello nazionale che locale per condurre piccole e grandi battaglie civili. La Brindisi a Roma è per lanciare un messaggio alle donne pugliesi e soprattutto alle donne brindisine perché prendano coraggio e compaiano, perché a Brindisi noi abbiamo grandi problemi come vede dal mio cartello, dalla mia maglietta al carbone. Sul palco tanta musica ma anche decine di testimonianze e storie personali, oltre al ricordo commosso delle lavoratrici vittime del crollo di Barletta. Il movimento, nato il 13 febbraio scorso nel pieno delle polemiche sul caso Rubi, non fa sconti a nessuno e non esclude l'impegno in politica. Ci siamo resi conto che abbiamo scatenato un'energia e una positività e una voglia di esserci delle donne. E quindi adesso che il momento è un po' più complicato e complesso non bisogna mollare. Volete fare anche politica? La stiamo già facendo. Il neopremier Monti è riuscito nell'impresa di rimettere insieme i sindacati che lunedì hanno scioperato per tre ore contro la manovra Salva Italia. Una manovra iniqua, sostengono CGL, Cisle e Will che sono scesi in piazza anche a Bari. Per noi c'era Giuseppe Pace. L'ultima volta che CGL e Cisle e Will fecero sventolare insieme le loro bandiere fu nel novembre 2005. Allora si protestava contro la finanziaria varata dal governo Berlusconi. Oggi, a più di sei anni da quella manifestazione di piazza, le tre sigle sindacali più importanti del paese alle quali si è aggiunta l'UGL hanno ritrovato unità e compattezza per dire no alle scelte dell'esecutivo guidato da Mario Monti. Tre ore di sciopero anche a Bari, come nel resto d'Italia, per ribadire il netto rifiuto a una manovra che, contrariamente ai principi di equità, rigore e crescita, sbandierati dal neopremier, si abbattono come una mannaia, soprattutto sulle teste di pensionati e lavoratori dipendenti. A pagare sono sempre gli stessi e questa cosa non è possibile, bisogna cambiare perché chi ha prodotto i danni nel corso di questi anni deve rendersi partecipe di una situazione di difficoltà che vivono le persone e deve contribuire a redistribuire i carichi in maniera più equa. Noi siamo consapevoli del contesto nel quale ci troviamo e chi più di noi non se ne rende conto. Noi siamo consapevoli del fatto che occorra fare altri sacrifici anche pesanti, però noi pretendiamo, io credo anche a giusta ragione, di poter discutere rispetto a quegli interventi da fare sulle pensioni e su altro con il governo seduti a un tavolo. Non si è fatta la patrimoniale, non è che ci volesse molto tempo per inserire la patrimoniale, non si sono colpiti gli alti redditi, non c'è nessun cenno di una vera lotta alla evasione fiscale, motivo per cui praticamente siamo del tutto insoddisfatti. Oggi questa avvertenza è da parte delle quattro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in Italia e un'avvertenza per dare voce a quelle che sono oggi le classi dei lavoratori che non hanno potuto sino a oggi, non solo sapendo che è un governo che non è stato votato dal popolo, ma soprattutto che si vedono pensare direttamente sulle proprie tasche questa manovra. E intanto martedì la Regione Puglia ha presentato la sua manovra per il 2012, nessuna tassa in più, soprattutto lo stesso miliardo di euro in bilancio stanziato l'anno scorso per garantire servizi ai pugliesi senza prevedere ulteriori tagli, ma sentiamo. Nessuna tassa in più per i pugliesi nel bilancio di previsione 2012 della Regione Puglia. Le priorità restano i trasporti e i servizi sociali, due dei settori più danneggiati dal Governo nazionale. Il bilancio inoltre ammonta circa un miliardo di euro, evitata anche la bancarotta delle province a causa della mancata assegnazione dei fondi per la formazione professionale. Lo hanno spiegato il Presidente della Regione Puglia, Niki Vendola e l'assessore al bilancio Michele Pelillo. Non era facile chiudere il bilancio per il 2012, ma abbiamo assicurato le stesse risorse del 2011 con i soldi effettivamente a disposizione, che sono circa mille milioni e lo abbiamo potuto fare, ha spiegato Pelillo, perché i conti della Regione sono in sicurezza. Nel 2012 è stata confermata la priorità ai fondi europei, si prevede una spesa di 676 milioni di euro, cifra che però rende ininfluente per la Puglia l'articolo 3 del decreto Monti sulla parziale netizzazione del confinanziamento dei fondi strutturali. Infatti, in base a questo articolo, dal Governo Monti arriverebbero in Puglia 218 milioni, meno di un terzo di quelli che servono effettivamente, ovvero 676. Per questo si sta pensando di procedere allo sfondamento pilotato del patto di stabilità, magari pagare qualche sanzione, ma movimentare l'economia e cofinanziare i progetti. Noi col patto di stabilità ormai abbiamo molta dimestichezza, penso di dire che siamo i più bravi d'Italia, anche perché abbiamo fatto di necessità virtù e quest'anno ci siamo trovati anche noi nella condizione, prima di prevedere come gestire il patto di stabilità nel 2012 e poi a seguire impostare il bilancio di previsione. Una svolta, diciamo, epocale dal punto di vista della tecnica di bilancio e anche dell'approccio culturale al bilancio stesso. Con il bilancio 2012 si è aperta, hanno spiegato vendola e pelillo, una fase nuova perché per la prima volta la redazione del bilancio è avvenuta sulla base dei limiti imposti dal patto di stabilità e non sulla base della competenza di parte corrente e capitale. Un cambio epocale per tutte le regioni. Io, ha detto il Presidente, ho preso la Regione Puglia con un debito strutturale di 3 miliardi di euro e oggi consegno un dato alla Puglia che è di autentica virtù. Un debito strutturale più che dimezzato di 1 miliardo e 400 milioni. Stiamo cercando, ha detto vendola, il modo per esentare dal pagamento del ticket anche i disoccupati e i cassi integrati. Parliamo di raccolta differenziana. Monte Parano nel Tarantino si conferma l'unico comune riciclone della Puglia anche per il 2011. Un triste premato per la Regione superata addirittura dalla Campania. E proprio sul caso Campania, martedì, si è innescata una polemica stroncata però sul nascere dall'assessore all'ambiente della Puglia, Lorenzo Nicastro. Il servizio. Comuni ricicloni in Puglia sono pochi, anzi pochissimi, tanto da non raggiungere il numero di altre regioni vicine. E così la Puglia, regione tanto virtuosa quanto distratta, viene addirittura superata dalla Campania, regione disastrata sotto il punto di vista dei rifiuti, che però di comuni ricicloni ne ha ben 154. A dirlo i dati di Lega Ambiente Nazionale, diffusi nel corso della premiazione dei comuni ricicloni in Puglia, edizione 2011. Un'affermazione che non è affatto piaciuta all'assessore regionale e all'ambiente. Si è detto che la Sardegna è virtuosa, che la Campania è virtuosa, la Puglia? La Puglia è più virtuosa della Sardegna, non posso dire. Dalla Campania sicuramente, perché vedete non basta essere bravi a differenziare. Bisogna anche essere bravi a chiudire il ciclo dei rifiuti nella propria regione, altrimenti sapete che succede. È come se un giocatore segna un gran bel gol, poi abbandona il campo. Che fa gioca a favore della squadra? Certamente no. Con lo slogan mai più cassonetti, il comune di Monteparano si riconferma anche per il 2011 unico comune riciclone in Puglia, con il 75,8% della raccolta differenziata effettuata. Un successo della raccolta porta a porta, che hanno cercato di raggiungere anche comuni come Anzano di Puglia, San Michele Salentino e San Pancrazio Salentino, che comunque sono riusciti a superare l'obiettivo regionale del 55%. Come si fa ad educare i cittadini allo slogan mai più cassonetti? Educare i cittadini è facile, basta chiederlo con la dovuta educazione, coinvolgendo la cittadinanza e facendo capire che questo è il futuro, questo è il sistema che ci differenzia dagli altri, fa sì che noi diventiamo una popolazione civile. Io non finirò mai di ringraziare i miei concittadini che ci mettono l'anima per fare la raccolta differenziata. Un traguardo per il comune di 2390 abitanti della provincia di Taranto, ma una sconfitta per la Puglia che ha bisogno di una svolta decisa. Tra i copoluoghi di provincia, infatti, la percentuale resta ancora bassissima. Bari è al primo posto ma con il solo 20%, seguita da Barletta con il 18,7% e da Trani al terzo posto con il 15,3%. Brindisi scende al sesto posto con il 12,4% di raccolta differenziata, nonostante particolarmente virtuoso sia stato il lavoro dei comuni del lato Brindisi 2 e Taranto, ancora una volta, si conferma a fannellino di coda con l'8,6%. I dati positivi sono frutto di una volontà politica. Serve sicuramente una svolta, una svolta che non si può non raggiungere, se non puntando sulla raccolta differenziata porta a porta. Bisogna completare la dotazione impiantistica a partire dagli impianti di compostaggio perché se non si raccoglie la frazione umida e la percentuale di raccolta differenziata non salgono e poi bisogna approvare l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e la Regione sta anche seguendo la penalizzazione economica dello smaltimento in discarica. Cioè inasprendo l'ecotassa, facendo pagare di più lo smaltimento in discarica questo spinge i comuni a puntare sulla raccolta differenziata. Temi ambientali, educazione alla raccolta differenziata, sanità e manovra. Nichi Vendola ha parlato a Tutto Tondo, mercoledì a Bari, alla presentazione dell'evento Aspettando Mediterre 2012. L'intervista è di Carmelo Palumbo. La circostanza era importante, la presentazione dell'evento Aspettando Mediterre 2012. L'occasione ci ha consegnato un Nichi Vendola più agguerrito che mai su numerosi temi della politica. Il rinvio a data da destinarsi delle elezioni non ha soffocato la verve del leader di SEL intervenuto sulla correzione della manovra economica. C'era una canzone che diceva, si può fare di più. Si può fare di più, si dimostra anche dalle correzioni introdotte che non dovrebbe essere un tabù toccare la struttura della ricchezza. Però siccome la struttura della ricchezza viene sfiorata dalla manovra, allora forse un governo di professori, di tecnici, che gode di una maggioranza così larga in Parlamento, avrebbe dovuto avere il coraggio di toccare significativamente la struttura della ricchezza e forse di non toccare affatto la qualità della vita ai redditi dei ceti medio-bassi. Il momento difficile vissuto dal nostro Paese sta provocando inevitabili frizioni un po' in tutti i settori e la dialettica ha alzato i suoi toni anche in Parlamento. Protagonista soprattutto la Lega, che Vendola ha bacchettato così. La Lega fa delle contestazioni che sono soltanto frutto della demagogia. La Lega ha compartecipato col Ministro Tremonti a un'opera sistematica di macelleria sociale in questi anni. La Lega è corresponsabile dell'impoverimento del Paese e dello smottamento sociale drammatico dei ceti medi. Quindi la Lega dovrebbe avere il pudore di tacere, non di abbaiare, avendo belato per anni. Poi Vendola torna governatore di Puglia e sempre nell'ambito di presentazione di Mediterra 2012 lancia un appello accuratissimo sull'educazione alla raccolta differenziata. Se nel corso del 2012 saranno incrementate significativamente le raccolte differenziate, questo comporterà premialità e minori oneri dal punto di vista dell'ecotassa. Più nel corso del 2013 ci abitueremo a immaginare che ogni pezzo di monnezza che mettiamo in modo differenziato ci fa risparmiare 10 centesimi e ogni giorno possiamo accumulare diversi euro e ogni mese svariate decine di euro. Ogni cittadino deve fare questo ragionamento. Il ministro dell'istruzione Francesco Profumo ha scelto la Puglia per dare il via al suo tour nelle scuole e nelle università italiane. Martedì è stato a Lecce e a Brindisi, mercoledì mattina è tornato nel capoluogo Salentino dove ha visitato il liceo scientifico Banzi. Vediamo. Non una riforma ma un nuovo programma per l'università. Si è rappresentato nella conferenza nazionale dei rettori prevista per domani a Roma. Intanto il neoministro dell'istruzione Francesco Profumo che ha deciso di intensificare i rapporti con i territori ha cominciato un tour in Italia e lo ha fatto partendo dalla Puglia. Ieri era a Lecce dove ha incontrato sei rettori del sud e ha proseguito per Brindisi dove ha visitato l'istituto tecnico industriale Majorana. Qui ha incontrato gli studenti sedendosi tra i banchi con loro e a chi gli ha chiesto se avrebbe mai consigliato una università del sud ad un giovane del nord ha risposto di sì ma a patto che le università del mezzogiorno se la giochino con quelle del settentrione imparino cioè ad essere competitive e soprattutto a dare migliori servizi ai loro studenti. Quanto poi ad una riforma dell'università Profumo è stato chiaro non è una priorità in questo momento ma fa una promessa. Entro la primavera 2012 vorrei che partisse la procedura nazionale per le abilitazioni dei ricercatori e poi il Cahier de Doleance le risorse poche come tutti sanno e per questo le risorse che possono arrivare dall'Unione Europea ha detto sono un jolly da giocare. Su questo argomento profumo si fa serio e ricorda le università quanto poco hanno speso dei fondi strutturali. Sul totale a disposizione la Puglia ha impegnato solo il 13% per esempio un aspetto sul quale occorrerà d'ora in poi invertire la rotta. Siamo a giovedì chiuso dopo otto mesi il caso Laudati il CSM ha votato a maggioranza l'archiviazione del procedimento disciplinare a carico del procuratore capo di Bari accusato di avere ritardato l'inchiesta sulle escort portate da Tarantini a casa di Berlusconi ma vediamo il servizio. Si è chiuso definitivamente con l'archiviazione il procedimento disciplinare a carico del procuratore capo di Bari Antonio Laudati con 16 voti a favore 5 contrari e 2 astenuti il CSM ha archiviato il caso dopo otto mesi di acquisizioni documentali audizioni di pubblici ministeri avvocati, giudici e rappresentanti delle forze dell'ordine. Le accuse dell'ex PM di Bari Giuseppe Scelsi non hanno alla fine trovato riscontro. Secondo Scelsi Laudati aveva interferito nell'inchiesta sull'escort che Giampaolo Tarantini portava nelle residenze di Silvio Berlusconi ritardando volutamente le indagini e affidando ad un gruppo di finanzieri la cosiddetta aliquota un'indagine parallela per controllare il lavoro dei magistrati dell'ufficio soprattutto il suo una sorta di indagine sull'indagine come l'ha definita lo stesso procuratore generale di Bari Antonio Pizzi. Non risultano i presupposti per l'avvio di una procedura di trasferimento d'ufficio recita la delibera approvata dal plenum del CSM che fa notare come peraltro degli stessi fatti si stia occupando anche il procuratore generale della Cassazione titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati se tutta l'assemblea si è trovata d'accordo sul fatto che fosse necessario archiviare c'è stata invece una netta spaccatura sulle motivazioni e così consiglieri di area il cartello elettorale delle correnti di sinistra della magistratura ipotizza un improprio rapporto di laudati con i legali di Tarantini e giunge alla conclusione che si debba archiviare ma solo perché i fatti in questione avrebbero una rilevanza penale e dunque non di competenza del CSM ricordiamo infatti che c'è un'indagine in corso a carico di laudati da parte della procura di Lecce e la legge non consente in queste ipotesi il trasferimento d'ufficio molto critici nei confronti dell'intero procedimento i vertici della Cassazione secondo cui il CSM avrebbe dovuto dichiarare sin dall'inizio la propria incompetenza c'è da chiedersi ha commentato il PG della Cassazione Vitaliano Esposito se siamo in uno stato democratico o nel medioevo del diritto è pronto al rimpasto in giunta il presidente della provincia di Bari Francesco Schittulli lo ha annunciato giovedì nel corso di Antenna Mattina il rimpasto potrebbe essere sgradito ai partiti di centrodestra ma Schittulli si è detto pronto a nuove dimissioni sentiamo la tempesta politica alla provincia di Bari è passata alcune settimane fa dopo che il presidente della giunta Francesco Schittulli ha ritrovato l'armonia con la maggioranza di centrodestra Schittulli si era dimesso per frizioni interne in giunta a causa della riorganizzazione amministrativa dell'ente la burrasca potrebbe tornare in via Spalato se Schittulli dovesse procedere con un rimpasto nella squadra di governo ad annunciarlo durante Antenna Mattina è stato proprio il presidente della provincia barese serve a vivificare la situazione e a vivificare anche l'attività Il rimpasto si profila indigesto per i partiti di maggioranza il PDL in particolare vorrebbe tenere in piedi l'attuale formazione di governo Schittulli preme invece per assicurare una casella in giunta al movimento che porta il suo nome se non dovesse esserci disponibilità per questo rimpasto io darò un segnale almeno per quanto riguarda il mio gruppo cioè il movimento politico Schittulli darò un segnale in questi termini io sono stato eletto nell'ambito del centrodestra e rimango nel centrodestra ciò non toglie che nel momento in cui non avessi più interlocutori validi nel centrodestra devo soltanto tirare le conclusioni di dimettermi e poi di ripresentarmi eventualmente all'elettorato ovviamente non mi ripresenterò per quanto riguarda la provincia di Bari perché ho già detto in tempi ripeto insospettabili che questa esperienza la ritenevo già esaurita ha degli altri propositi insomma politicamente parlando no 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 davvero credetemi no l'unico politicamente parlando è quello di essere vicino ai cittadini e si è vicino ai cittadini soprattutto nel momento della sofferenza e io ho un lavoro molto nobile e si è vicino ai cittadini quando si governa un territorio presidente però si è più vicino ai cittadini quando la persona sta poco bene soprattutto in salute e colpita da una malattia seria come il cancro da Schittulli ancora un nuovo messaggio sul tema della trasparenza degli uffici amministrativi io ho bisogno di una fotografia della situazione degli uffici e quindi che i nuovi dirigenti mi dicano mi descrivano lo stato dell'arte com'è la situazione che hanno trovato in questo nuovo ufficio beh questa nota io l'ho inviata a fine novembre io non ho ancora nessun riscontro ad oggi quindi significa che ci sono delle forti resistenze delle crostazioni che forse meriterebbero anche l'attenzione della procura della Repubblica italiana ancora uno sbarco sulle coste della Puglia sono una settantina i migranti soccorsi giovedì sera in mare sono stipati su una imbarcazione con l'albero maestro ed il motore in avaria da giorni soffrivano la fame vediamo erano stipati su una barca a vela in avaria soccorsa da motovedette della capitaneria di Porto i 71 migranti arrivati ieri sera intorno alle 20 a Bari il natante era circa 27 miglia a nord del capoluogo pugliese a largo di Molfetta in acqua internazionali quando è stata lanciata via radio la richiesta di soccorso all'imbarcazione a quanto si apprende era stato tolto l'albero per meglio adattarla al trasporto di clandestini i migranti fra i quali due donne che sarebbero di nazionalità afghana anche se le forze dell'ordine non hanno escluso possano appartenere ad etnie differenti sono tutti in buone condizioni di salute nonostante siano arrivati infreddoliti estremati per qualcuno è stato necessario l'intervento dei medici per crisi di ipotermia ma senza gravi conseguenze per la capitaneria di Porto è la terza operazione di soccorso in due settimane i due scafisti di nazionalità ucraina sono stati arrestati 25 i minori accompagnati in un centro di accoglienza gli altri si trovano ora nel cara il centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari i pugliesi meritano di pagare meno tasse e ci sono tutte le condizioni per farlo lo ha spiegato venerdì a nome del centrodestra il capogruppo del PDL alla regione Puglia Rocco Palese sentiamo le tasse possono e devono essere abbassate lo ha ribadito il capogruppo del PDL alla regione Puglia Rocco Palese spiegando cifre alla mano come si può modificare il bilancio di previsione 2012 elaborato dalla giunta Vendola per esempio può scomparire la cisa sulla benzina secondo Palese ci sono a disposizione 101 milioni e 527 mila euro che possono essere spesi meglio di come sono stati distribuiti nella manovra economica che sarà licenziata dal Consiglio regionale entro la fine del mese noi abbiamo fatto un piano di rientro sulla sanità 195 milioni di euro il disavanzo della sanità più c'è uno scostamento di 31 milioni e mezzo di euro alla fine rimangono 101 milioni di euro disponibili io ritengo che i pugliesi avrebbero meritato maggiore attenzione perché con 101 milioni di euro disponibili che sono stati distribuiti a destra e a manca nel bilancio regionale si potevano abbassare le tasse tutto qui è per questo che saranno presentati in Commissione in Consiglio gli emendamenti necessari per garantire qualche servizio in più e qualche tassa in meno ai pugliesi si chiederà innanzitutto l'assistenza domiciliare oncologica di esentare dal pagamento dei ticket su farmaceutica e specialistica i cassi integrati e i disoccupati inoltre Palese avverte che sforare il patto di stabilità provocheranno poche sanzioni alla Puglia che inevitabilmente finiranno per pesare sulle tasche dei pugliesi nel 2013 e chiudiamo con una buona notizia arrivata per le tv locali e non solo l'asta si farà il governo ha accolto venerdì nell'aula della Camera due ordini del giorno analoghi di IDV e Lega e di alcuni esponenti del PD che lo impegnano ad annullare l'assegnazione gratuita delle frequenze tv e ad indire una successiva asta a titolo oneroso vediamo il servizio se sia stato fatto per fare uno sgambetto a Berlusconi non è dato sapere ma la notizia che arriva dall'aula della Camera fa certamente tirare un sospiro di sollievo a tutti coloro che hanno a che fare con il mondo delle frequenze in digitale terrestre tv locali in primis l'asta si farà il governo ha accolto due ordini del giorno analoghi di IDV e Lega e di alcuni esponenti del PD che lo impegna ad annullare l'assegnazione gratuita delle frequenze tv e a indire una successiva asta a titolo oneroso il documento essendo stato accolto non è stato posto ai voti l'ordine del giorno della Lega di cui il primo firmatario è Roberto Maroni ricorda il cosiddetto beauty contest cioè il bando di gara per l'assegnazione gratuito delle frequenze in digitale terrestre all'epoca votato dal partito del carroccio che oggi invece ha presentato un ODG totalmente contrario la Lega sottolinea l'imprescindibile necessità di puntare sulla banda larga per la quale una gara potrebbe generare un nuovo gettito la recente gara 4G per il mercato delle TLC ha generato un incasso superiore alle più rose aspettative garantendo un'entrata di circa 4 miliardi di cui l'impegno al governo ad annullare il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze in banda televisiva e il conseguente disciplinare di gara che finirebbe per implementare a titolo gratuito la già rilevante detenzione di frequenze di soggetti già operanti e ad annullare conseguentemente il beauty contest il documento della Lega dà indicazioni tecniche per come impostare la nuova gara per l'assegnazione delle frequenze che in ogni caso dovranno essere oggetto di assa a titolo oneroso quello di oggi un importante risultato raggiunto esprimiamo soddisfazione per l'accoglimento dell'Odg a firma di Pietro per il quale l'Italia dei Valori si è battuta in Parlamento con determinazione così Massimo Donadi capogruppo di IDV alla Camera ha commentato in aula la decisione del governo Sette Giorni Magazine finisce qui grazie per essere stati con noi l'appuntamento è come sempre puntuali tra una settimana arrivederci grazie a tutti